Bye. Grazie. 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 Ah, che... Il maggio vi dà conigli? Ah, chi? La penna perché? Perché la sento cercando. La penna perché l'ho portata io? La penna perché? Perché l'ho portata io? Perché? Perché un bucino per il bucino che fa? No, no. No, no, no. Per me dirà un mante. Ah, sì, no. Ah, la penna. Ah, la penna. No, no. Carrambas, che sorpresa! Gli fanno una seconda. Ah, grazie. Grazie. ma io pensavo è forse anche di più invece me la sono trovata più calma di come pensavo fosse però era un po' più tranquillo ora non capivo bene quel vicino però mi sembrava abbastanza sicura è un po' più calma di come pensavo è un po' più calma di come pensavo è un po' più calma di come pensavo si ripiglia grazie 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 grazie